Il liceo Alfonso Gatto di Agropoli ha sempre guardato con interesse e curiosità a quello che è ormai diventato da dieci anni un appuntamento non solo italiano ma internazionale, il maggio dei libri. Ogni anno la scuola ha aderito con qualche significativa iniziativa per dare un contributo alla promozione del libro e della lettura. Quest'anno tenuto conto delle modalità di didattica a distanza, la scuola ha proposto ed organizzato un'iniziativa simpatica e divertente. Vi leggo un incipit per sollecitare chiunque, soprattutto coloro che non hanno l'abitudine di leggere, a immergersi nella scoperta della lettura. Gli studenti si sono cimentati nella lettura di un incipit di un'opera classica o di un libro di loro gradimento anche in lingua straniera realizzando brevi video o semplici registrazioni sonore. Con la loro libera creatività sono stati capaci di incuriosire, di guidare in volo nel cielo dell'immaginazione in terre lontane per sperimentare nuove avventure. Hanno saputo cogliere attraverso la sapiente scelta di testi classici il senso più profondo dell'esistenza che forse in questi tristi giorni abbiamo imparato ad apprezzare meglio e soprattutto ci hanno fatto apparire come utile ciò che spesso in una società proiettata forse natamente all'utilità economica viene considerato inutile. Il libro La scelta del tutto casuale degli incipit dell'Orlando Furioso e del Don Quixote letti dagli studenti suona come un appello a non disperdere il concetto della dignità dell'uomo e la necessità della ricchezza interiore. Allo stesso modo il Debrevitate Vite ci fa scoprire il senso del tempo che non è quello dei ritmi assordanti e frenetici dell'oggi ma è quello della lentezza cioè del sapersi dare e lasciare tempo e così le poesie di Saffo, di Gernuda, di Goethe e i romanzi di Leopold Dallas e di Scott Fitzgerald o i promessi sposi di Manzoni ci aiutano a capire l'importanza del libro e il valore della cultura come elevazione dello spirito. Il più grande poeta spagnolo del novecento Federico García Lorca nell'inaugurare nel 1931 la biblioteca di Fuente Vagueros suo paese natale ebbe a pronunciare parole che non possiamo e non dobbiamo dimenticare non solo di pane vive l'uomo io se avessi fame fossi senza forze per la strada non chiederei un pane ma chiederei mezzo pane e un libro e da questo punto di vista io attacco violentemente coloro che parlano di rivendicazioni economiche senza mai neppure nominare le rivendicazioni culturali reclamate a gran voce da ogni popolo è giusto che tutti gli uomini abbiano da mangiare ma è altrettanto giusto che tutti gli uomini abbiano accesso al sapere